Allora America come va? Va male, va male perché la gente è stanca, è ora di cambiare Ma tu pensi che la gente capirà che è ora di cambiare? Ma adesso vediamo subito, guarda, prova a domandare Chi si è stufato dei soliti partiti, alzi la mano Noi sì! Noi siamo stufi, basta! E tu? Noi sì!